Questa diretta ha il solo ed esclusivo scopo didattico e formativo, pertanto non deve essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione di pubblico risparmio. I risultati presentati, reali o simulati, non forniscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance operative future. L'attività di trading speculativo comporta notevoli rischi economici e chiunque lo svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità, pertanto gli autori di questo webinar non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Fare trading comporta dei rischi. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. Il 72% dei trader al dettaglio incorrono in perdite quando fanno trading con TICMIL. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l'elevato rischio di perdita. Le opzioni ed i certificati sono strumenti complessi che potrebbero generare rapidamente delle perdite e superare anche l'importo investito. Le perdite dei clienti professionali possono eccedere i loro depositi. Lo spettatore pertanto esonera questo webinar e chi l'ha prodotto, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità ad esso connessa o derivante. Grazie per la vostra attenzione team visionforex.info in a fast-moving market. Anything is possible. Investing opportunities arise. In a fast-moving market, anything is possible. trading strategies evolve. But what matters most is having a stable partner by your side. Tickmill stands by you the whole way. Buongiorno a tutti e benvenuti a Market News in questo lunedì 13 gennaio 2020. Partiamo subito con il ricordarvi quelle che sono le modalità per interagire all'interno della nostra diretta, la chat sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e vi ricordo anche il numero WhatsApp 347-5004-846 al quale potete inviare immediatamente messaggi in tempo reale. Per quanto riguarda il calendario economico, festività in Giappone quest'oggi e quindi la seduta a Tokyo rimasta chiusa, o meglio la borsa a Tokyo rimasta chiusa, ma andiamo a vedere invece quelli che sono stati i dati della mattinata perché sono usciti i dati relativi al PIL su base mensile annuale. Per quanto riguarda il Regno Unito, più 0,6%, meno 0,3% su base mensile, produzione manifatturiera in forte calo perché qua vediamo un meno 1,7% rispetto a un previsto più 0,3 e attenzione a quello che poi sarà stato anche il dato relativo appunto al PIL mensile, la variazione su base trimestrale che invece si è attestato leggermente al di sopra delle attese con un più 0,1%. Alcuni temi invece questa mattina le riportiamo per quanto riguarda le nostre breaking news e andiamo a riprendere subito immediatamente quelle che sono state le parole di Steven Munchin relative a che cosa? Relative alla vicenda Boeing che rallenterà possibilmente i numeri del PIL relativamente alla crescita degli Stati Uniti d'America. Sappiamo di quelle che sono state tra l'altro le ultime indiscrezioni trappelate appunto da mail interne da parte di dipendenti relative al 737, al Boeing 737 e su questo Munchin ha detto non c'è dubbio che la situazione di Boeing potrebbe rallentare i numeri del PIL fino addirittura a 50 punti base. Per quest'anno abbiamo osservato dal 2,5 al 3% di crescita ma potrebbero essere i numeri più vicini al 2,5% piuttosto che al 3. e allora timidi segnali per quanto riguarda anche l'amministrazione Trump di possibile rallentamento della crescita, ma in questo caso vedremo anche come si comportano i listini come al solito, comprano ancora? Lo vedremo tra pochissimo, tra l'altro se volete c'era un video pochi istanti fa sulla banca di Giuseppe Rocca Salvo che parlava proprio di questo. Per quanto riguarda ulteriori dati in declino parliamo di Ford e delle vendite di auto in Cina, in calo ancora una volta per il terzo anno consecutivo. Ford ha consegnato 140 46.473 veicoli nel quarto trimestre 2019 in calo del 14,7% su base annua. Questa è la dichiarazione in una nota diffusa questa mattina da Ford stessa, ha venduto nel totale del 2019 in Cina 567.854 veicoli, ma attenzione perché come vi dicevo in apertura terzo anno consecutivo, ebbene sì le vendite sono diminuite del 37% nel 2018, erano già in calo del 6% nel 2017. Attenzione quindi al mercato delle auto, non solo negli Stati Uniti con Ford, ma anche sul mercato europeo per quanto riguarda le principali casi automobilistiche. Infine proprio nelle ultime ore sono uscite delle dichiarazioni da parte dei sauditi, in questo caso del Ministro dell'Energia Abdulaziz Abil Salman, che ha dichiarato ancora una volta il pieno sostegno a Trump, perché in questo caso ha detto certamente il Presidente degli Stati Uniti è il Presidente degli Stati Uniti e può fare tutto quello che desidera in termini di sicurezza internazionale, quindi anche in questo caso si allineano i sauditi all'amministrazione Trump, agli Stati Uniti e si scontrano con quelli che sono i principi iraniani e comunque sia quelli che sono le politiche iraniane. Sappiamo che in questo caso il petrolio la fa da padrone e tutto quello che concerne il petrolio e non solo l'oro nero. Ci andiamo a collegare perché vogliamo sapere subito e immediatamente come si sono comportati non soltanto i retail, ma anche i grossi istituzionali con il Country Manager Italia di TQ1000, Giuseppe Cericola. Giuseppe buongiorno. Ciao Francesco, buongiorno a te e buon inizio settimana a tutti gli amici di te della casa. Esatto, li andiamo tra l'altro a salutare perché sono ovviamente subito operativi, a partire da Roberto, a Mirko, ad Antonella, a Giuseppe Roccasavo che scrive in chat, a Davide, a Massimiliano, ad Alicia, a Franco, a Milo, insomma tanti sono immediatamente collegate con noi le persone. Allora Giuseppe da che cosa partiamo? Perché ci eravamo lasciati venerdì con un nodo al fazzoletto per quanto riguarda l'aggiornamento sul Cot Report, io vedo qua già condiviso da parte tua un bello screenshot e allora ti cedo la parola e andiamo a vedere come si sono comportati. Sì, direi di fare un po' un aggiornamento sul Cot visto che non lo facevamo da un po' di sedute sia ovviamente per ragioni di festività e quindi andiamo un po' a vedere come si sono posizionati all'inizio del 2020, i grossi speculatori sui vari cambi. Iniziando da Euro possiamo notare che questa settimana c'è stata una diminuzione delle net position short perché il dato presente segnalava un aumento delle net position fino a 72 mila contratti, venerdì invece c'è stato comunque un nuovo aggiornamento che vede una diminuzione di questa esposizione di circa 11 mila contratti, quindi ho inserito per il momento su Euro una tendenza flat basandomi appunto sul Cot Report, anche se comunque il dollaro rimane sempre comprato contro l'Euro, ma la forza è in diminuzione. Invece il discorso è un po' diverso sulla sterlina, dove qui invece abbiamo un aumento delle net position long in questo caso, quindi sono aumentate l'esposizione in acquisti di sterlina, anche se questa mattina stiamo vedendo comunque un calo del cambio, però i grossi speculatori hanno iniziato a mettersi long su questo cambio e quindi la tendenza per il momento è rialzista, quindi un dollaro venduto con una forza in aumento, in questo caso la forza è relativa appunto alla sterlina. Mentre gli altri cambi come Yen, Australia, Franco e Neo Zelanda denotano una diminuzione in tutti i quattro casi delle net position short, in questo caso il dollaro è sempre comprato, ma la forza è in diminuzione, quindi anche qui ho inserito una tendenza flat. Il cambio diciamo degno di note insieme alla sterlina dove appunto i grossi speculatori hanno iniziato a muovere qualcosa, sono anche il canadese dove c'è un aumento delle net position long, in questo caso siamo passati da circa 8 mila contratti a aumenti 6 mila a favore appunto del rialzo e quindi in questo caso il dollaro però viene venduto perché vengono acquistati sempre vengono comprati i dollari americani. Ricordo che il CAD contro il dollaro si trova al denominatore, quindi in questo caso se vediamo acquisti di canadese sulla piattaforma dovremmo appunto andare in short perché andremo a vendere dollari americani e comprare dollari canadesi. Questo è un po' il quattro diciamo del quote. Giuseppe benissimo, ma volevo andare subito con te a vedere un pochino quello che sta accadendo anche sul lato retail perché come sempre facciamo un pochino il compendio, la ponderazione come al solito con te e portiamo avanti lo studio e tra l'altro a mio avviso questa mattina c'erano anche, o meglio ci sono scusate alcuni movimenti interessanti come per esempio con il dollaro contro lo yen giapponese che comunque sia sta performando ancora positivamente, si riavvicina all'area dei 110, Giuseppe però in questo caso ti cedo la parola, andiamo con calma, prima vediamo un pochino quello che appunto stavi attenzionando te e poi magari andiamo a spulciare qualche occasione sui mercati, prego. Stavo guardando la sterlina perché dall'analisi del COT c'è un momento comunque dell'esposizione rialzista, la parte grossi speculatori, quindi stavo a vedere un po' un punto di supporto in cui andare ad aprire una posizione rialzista in linea con le indicazioni del COT report, perché dal punto di vista dei retail non ho grosse informazioni perché abbiamo un 56% short contro un 44% long, però diciamo che è una situazione di stallo dal punto di vista dei retail perché siamo sostanzialmente in una situazione di equilibrio, quindi volendo invece seguire le indicazioni del COT si potrebbe comunque puntare a degli acquisti, magari anche già da questo supporto in area 129,75 potrebbe essere un buon ingresso, quello che mi piace di più particolarmente è una falsa rottura del livello di 129,03, facciamo quindi il run number in area 129 e qui potrebbe essere un buon punto per cercare anche un ulteriore ingresso, quindi io andrei a lavorarlo così la sterlina, ovviamente sempre andando a diciamo comunque smizzare le posizioni, quindi un primo ingresso già in quest'area e il secondo poi lo andrei a provare in area 129,05 perché sempre in linea per chi crede e segue le analisi del COT report, quindi questo potrebbe essere un piano di trading abbastanza intelligente da porre sulla sterlina. Benissimo Giuseppe, abbiamo fatto il gioco di parole sulla sterlina, per quanto riguarda invece gli altri cambi e cross valutari, cosa possiamo attenzionare soprattutto per quanto riguarda anche in questo caso, in questo lunedì mattina ci sono degli eccessi per quanto riguarda il posizionamento retail che ritieni interessanti, oppure ci sono altre occasioni che invece stai monitorando al di là di quelli che sono appunto i soliti aspetti, però vedo subito che hai prontamente caricato un USD JPI Giuseppe. Sì perché ne avevamo parlato venerdì, io lo aspettavo appunto perché siamo in una fase di eccesso, però mi aspettavo che il prezzo andasse poi a colpire i prezzi medi di carico di chi era il rialzo, che attualmente hanno, i rialzisti hanno un prezzo medio di carico molto vicino al prezzo e vedete come quando USD JPI sale, chi è il rialzo tende comunque a seguire il prezzo, quindi non mantiene le posizioni, quindi il detto magari lascia correre i profitti e taglia le perdite, sul lato retail non è poi così veritiero proprio perché anche se il prezzo sta andando dalla propria parte, comunque i retail continuano ad aprire posizioni in questo caso, quindi magari chiudono in gain dopo pochi pits, mentre quando sono al ribasso invece lasciano comunque aperte le posizioni come in questo caso perché vedete che il 90% di chi è al ribasso ha un prezzo medio di carico a 108,80, quindi ben oltre a una figura rispetto al prezzo attuale. Comunque per me questa è una situazione di chiaro e lampante eccesso che comunque andrebbe lavorato in short, quindi è una cosa che io già avevo in mente di fare, quindi lo facciamo in diretta proprio perché comunque è l'operatività che richiede in questo caso lo short, proprio perché abbiamo una situazione in eccesso del 92%, chi è al rialzo ha iniziato a guadagnare, quindi io inizio ad aprire delle posizioni sell nella speranza, tra virgolette, che questo eccesso rientri in situazioni normali, quindi si vada un po' a sgonfiare questo eccesso retail e tornare magari su situazioni di equilibrio. Non lo faccio con una size piena ma vado a sommenizzare sempre comunque l'operatività, un po' come sto facendo su SDCHF che poi magari vi faccio vedere, però io inizio adesso ad entrare su questo livello e poi se il prezzo dovesse continuare a salire vado ad aprire altre sell, ma non vado oltre leva 2 rispetto al conto che ho, quindi su questo conto di circa 25 mila Euro, ho aperto una sell mini lotto da 0,10, quindi non sono nemmeno a leva 1, quindi per arrivare a leva 1 devo aprire comunque quasi 10 operazioni, quindi va comunque da sé che sono comunque abbastanza tranquillo dal punto di vista della leva. Benissimo, tra l'altro Giuseppe arrivano delle domande… Ho scusa per arrivare a leva 1, insomma. Ok, scusami per l'interruzione, Roberto facciamo un'osservazione per quanto riguarda il Dax, Dax verso area 13,450, occasioni di nuovi acquisti, sterlina sotto effetto, Meg Exit, quindi per quanto riguarda la vicenda di Megan e appunto non solo, verso il supporto di 1,29, abbiamo fatto il punto, però Giuseppe torniamo sulla sterlina, perché Giuliano ci fa, forse su Cable è interessante un long di medio, lungo termine, che cosa ne dite? Ora noi Giuseppe magari approfondiamo quelli che sono i temi su un breve periodo, visto appunto il posizionamento dei retail che osserviamo, visto comunque sia l'aggiornamento del COT di settimana in settimana, ma in questo caso se vogliamo allungare la view, vogliamo sentire in questo caso la tua opinione? Beh, comunque il COT Rappert è una view di lungo periodo, quindi attualmente comunque i grossi speculatori hanno iniziato ad aprire posizioni rialziste e quindi si può iniziare un po' a seguire questa indicazione da parte dei grossi speculatori, quindi come ho detto prima, magari entrare già adesso con, quindi non lo so, facciamo il caso che vogliamo comunque costruire una situazione pinamidale sulla sterlina, iniziamo comunque a individuare dei punti di ingresso, quindi se dobbiamo entrare magari con un lotto, invece di entrare pienamente con un lotto andiamo a smezzare con 5 entrate e un'entrata potrebbe essere già questo livello qui, l'altro area 1 e 29 e poi magari cercarsi altri supporti in base alla propria analisi che magari ogni trader fa per conto proprio. Su possibili target della sterlina, quindi visto che parliamo di situazioni di lungo periodo dovremmo andare magari a guardare un grafico weekly e se poi puntiamo al rialzo, dobbiamo mantenere le posizioni e andare a cercare i nuovi massimi che la sterlina potrebbe fare e quindi il nuovo massimo, diciamo il massimo più interessante che c'è dal punto di vista sul lungo periodo è quello che la sterlina ha fatto sulle elezioni, quindi area 1 e 35, quindi stiamo parlando di sicuramente un orizzonte temporale molto lungo, però se si opera sul lungo periodo si devono avere dei target di lungo periodo, non è che entriamo adesso per fare 30-40 pips e poi di aver operato sul lungo periodo, non avrebbe senso. Assolutamente, Giuseppe volevo approfondire con te alcuni strumenti che magari nelle ultime settimane abbiamo messo in secondo piano per quanto riguarda il dollaro australiano e il dollaro neozelandese, ci avevi attenzionato sicuramente tu su uno di questi due strumenti se non ricordo male per quanto riguarda alcuni eccessi precedenti, però in questo caso volevo sapere un pochino la tua opinione per quanto riguarda sia in questo caso i due cambi principali AudiUSD e NZDUSD, come li vedi e se eventualmente da qualche parte possiamo trovare qualche occasione come fatto poco fa appunto su USDJPI, Giuseppe? Allora su AudiUSD ho ancora in essere le linee che avevo tracciato sul trading range, in particolare il supporto di area 0,6850 era molto interessante per cercare di lavorare su questi eccessi, proprio perché AudiUSD secondo me comunque viene da una situazione di ribasso, però vedete che è stato caratterizzato anche da alta volatilità, quindi abbiamo avuto un rialzo fino a area 0,7025 per poi un ribasso anche abbastanza corposo fino a area 0,6850, da qui secondo me manterrà comunque questa lateralità e quindi si può lavorare sui eccessi questo tipo di cambio. Adesso il 57% dei trader è short, potrebbe già essere comunque un buon livello quest'area 0,6950 per cercare dei rialzi per andare a fare il nuovo massimo, ma non vado a dare dei target molto ambiziosi su questo tipo di cambio, già fare il nuovo massimo in area 0,6950 sarebbe comunque già una gran cosa su questo tipo di cambio, quindi io andrei comunque ad operare adesso al rialzo in linea con quello che mi dice un po' l'analisi retail. Gli stop, qui in questo caso ci sono anche un po' degli stop tecnici, perché si potrebbe comunque abbandonare l'ipotesi del rialzo andandosi a stoppare sotto area 0,6850 che appunto veniamo essere stato un pavimento molto interessante dove c'è stato addirittura un triplo minimo su quell'area che è stata molto, diciamo, un interesse su dei grossi operatori e quindi da lì il prezzo è un po' rispirato, quindi io tendenzialmente adesso sono rialzista sul cambio. Credo che anche Neo Zelanda o SD seguano un po' le stesse indicazioni, in effetti sì, perché vediamo anche qui è in una fase di pullback dopo comunque un rialzo che ha fatto sul minimo di area 0,66 e quindi anche qui andrei comunque ad operare al rialzo. La situazione dal punto di vista retail è un po' diversa rispetto all'USD perché abbiamo un 81% di trader short, quindi diciamo che l'interesse è maggiore per lo short da parte di trader e retail e quindi si potrebbe iniziare ad operare anche qui al rialzo. Benissimo, così abbiamo risposto tra l'altro, l'avevo vista successivamente mentre facevo la domanda a Manuel che chiedeva appunto dei livelli per quanto riguarda Audi USD, però se sei d'accordo Giuseppe andiamo a vedere altre domande che stanno arrivando perché dice Mirko, potrebbe essere che la sterlina scenda giù da qui a fine mesi in vista dell'uscita dall'UE, grazie per una risposta e poi andiamo anche da Massimiliano che chiede, secondo il Cot Report sarebbe logico entrare short su EuroCAD, allora per quanto riguarda Mirko, Giuseppe cosa ne pensi? La sterlina potrebbe scendere appunto in vista dell'uscita dall'UE al 31 di gennaio, una tua opinione su questo e poi andiamo a vedere un cross come Euro contro il dollaro canadese, prego. Sì, assolutamente è una cosa che poi succede anche spesso guardando un po' al Cot Report, perché comunque parlando di lungo periodo, gli speculatori quando entrano comunque vanno un po' a migliorare il loro prezzo meno di carico, quindi non è che se entrano loro dopo due giorni il prezzo va subito dalla propria parte, proprio perché c'è comunque tanta liquidità, quindi quella liquidità deve essere assorbita. Sulla sterlina potrebbe, se guardiamo da un punto di vista meramente tecnico, potrebbe andare appunto a colpire l'area di 1,29 e da lì ripartire, quindi due livelli sicuramente da monitorare sul lungo periodo della sterlina sono l'area 1,29 e poi l'altro swing in area 1,27 e 75, quindi sono comunque dei livelli dove vedete che comunque il prezzo ancora non è andato a testare, quindi comunque potrebbero andare a colpire quei supporti e da lì magari ripartire. Comunque vedete che dal suo punto di vista weekly la situazione è completamente cambiata sulla sterlina, quindi sul lungo periodo il trend rimane attualmente a rialzo e sono anche abbastanza tranquillo, visto che comunque sul CotReport c'è appunto i grossi speculatori che stanno comprando sterline. Benissimo, Giuseppe, allora andiamo a vedere invece per quanto riguarda l'utente che ci chiedeva EuroCAD, così in questo caso facciamo il punto della situazione e da un pochino entrambi i punti di vista vediamo se ci sono eccessi e non solo, prego. Beh EuroCAD sta lavorando in laterale, sembra allo specchio un po' di EuroDollaro ma con più volatilità perché anche qui dopo i non far payrolls EuroDollaro che puntava area 1,11 ha comunque respirato un po' e è andato comunque a prendersi a fare 30 pips al rialzo, anche qui EuroCAD ha andato a sporcare i minimi in area 1,44 e 60 e attualmente in una fase di potenziale swing rialzista, potrebbe comunque andare a colpire l'area di 1,45 e 45, quindi lavorare secondo me su questi eccessi potrebbe essere una cosa intelligente, quindi magari adesso se si vuole fare l'operazione a rialzo perché c'è stato comunque un venerdì una reazione abbastanza interessante, si può fare per andare a colpire il massimo in area 1,45 e 45, altrimenti potrebbe essere anche una buona idea aspettarlo a 1,45 per provare lo short o aspettarlo anche in area 1,44 e 60 sempre per provare invece il long, ci sono diversi, si può lavorare in diversi modi, quindi comunque queste situazioni di lateralità comportano delle situazioni interessanti sugli estremi, quindi mi piace particolarmente lavorarlo in questo caso sugli estremi su EuroCAD, quindi short in area 1,45 e 45 e long area 1,44 e 60. Benissimo Giuseppe, abbiamo risposto anche alle richieste da parte degli utenti, andiamo a ricordare un pochino quelli che sono i riferimenti per quanto riguarda TICMIL dal sito e non solo, ovviamente parola a te per questi remind. Dal punto di vista della didattica ancora non siamo partiti, me la sto prendendo un po' con comodo in realtà, ma partiremo a breve con dei webinar interessanti, li trovate sul sito, comunque verrete avvisati sul sito di TICMIL da strumenti per il cliente, webinar, nella sezione webinar ci saranno comunque a breve degli appuntamenti interessanti e quindi saranno disponibili sul sito. Benissimo, benissimo Giuseppe, io vado a ringraziarti, ad augurarti una buona settimana di lavoro, torneremo con te a fare il punto della situazione sui mercati finanziari, venerdì nell'appuntamento consueto con Trader Talk, per il momento arrivano i ringraziamenti tra l'altro di Mirko, di Massimiliano e di tutti gli altri utenti che sono appunto collegati con noi. Giuseppe, non rinnovo i saluti, ma semplicemente una buona giornata e un buon lavoro a te e a tutto il tuo staff. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli amici trader da casa. E allora grazie ancora a Giuseppe Cericola, mentre vado a dare la condivisione all'ospite, il prossimo ospite che è arrivato subito qua con noi, vado a fare un piccolo intermarket giusto per ricordare che il dollaro contro lo yen giapponese va ad aggiornare quelli che sono i massimi giornalieri a 109,90, un VTI che va a lambire la zona dei 59 dollari a barile, bucandolo leggermente al ribasso per quanto riguarda ancora una volta i listini, un DAX che si riporta a contatto dell'area 13.490 punti, ancora difficile la situazione sui listini perché sembra in ogni caso che ogni ribasso venga acquistato, ma per questo e non solo vado a ricordare, anzi a salutare, dare il buongiorno, il buon 2020 per essere qua con noi in questo primo appuntamento, Arduino Schenato, yearforex.com. Ciao Arduino, buongiorno. Buongiorno a te, buon 2020 a tutti. Buon 2020, Arduino. Allora sembra davvero che su ogni ritracciamento i listini vengano acquistati, anche questa mattina se andiamo a vedere un intraday, veramente il DAX ogni volta che va a lambire la zona dei 4.90, 4.80 viene riacquistato per riportarlo, è vero con pochissima volatilità questa mattina, 20 punti sopra, insomma verso l'area 13.5, ma in questo caso andiamo a vedere con te il tuo punto di vista sui principali listini e poi andiamo a vedere anche qualche cosina sul Forex perché mi ero segnato qualche appunto, ma andiamo con calma, Arduino a te la parola. Beh, prendiamo il DAX visto che ne hai già un pochino così, hai fatto una breve introduzione, abbiamo una struttura, gli americani dicono che è un po' choppy market, quando il mercato non è in lateralità vera ma è un po' in confusione, abbiamo avuto un mese ovviamente quello un pochino pre-natalizio che come spesso succede non è sicuramente uno dei migliori periodi nei quali fare trading proprio perché spesso il mercato è un po' cioppino, è un po' incasinato. però ecco adesso sembra essere un pochino uscito dai 13.4-13.350 questa zona qui, il problema è che io qua c'ho un'area rossa perché quell'area rossa corrisponde con i massimi fatti a gennaio 2018 e dove il mercato, quindi il DAX era stato buttato giù completamente in maniera anche abbastanza pesante senza esserci mai tornato, quindi vuol dire praticamente due anni fa. A questo punto sicuramente a mio avviso questa non è la migliore zona dove comprare, anche se il trend è long e tutto quanto sembra far presagire a un rialzo ancora notevole dell'indice visti gli americani e vista la price action che sta facendo sui grafici importanti, sui time frame importanti il DAX. però ecco non ritengo mettersi long qui seppur può avvenire un rialzo anche notevole perché poi quando si rompono i massimi storici, ma come è capitato in America, può capitare veramente che il mercato abbia un movimento talmente repentino che non si ferma e non faccia neanche ossigenazioni nel brevissimo. Detto questo per quanto mi riguarda io sinceramente anche prendendo tutti i buoni propositi d'inizio anno nell'operatività, attenderei di vedere insomma almeno per com'è la mia operatività delle, una situazione un po' più chiara. Che cosa significa? Che sicuramente diciamo che mantenersi un pochino in ottica long forse è la cosa migliore, almeno multi day, però per l'ottica long o ritorniamo su dei buoni supporti oppure superiamo i 13,6 chiaramente e da lì magari vedendo che c'è forza si può puntare a cercare dei long sempre in ottica trading, quindi non di cassetto ma di qualche giorno, però se vediamo forza, quindi direi che oggi o un consolidamento sopra i 13,6 o un ritorno verso i 13,3, 13,100 anche e lì ci dà qualche input, allora riterrei più interessante l'acquisto. Sulle vendite ti dico la verità, tranne che mi faccia tra nelle prossime o questa settimana o comunque nelle prossime due o tre settimane al massimo un chiaro, un chiaro per esempio falso breakout dei massimi ma che mi deve chiudere sul settimanale e quindi deve dare proprio da un punto di vista importante una chiusura nuovamente sotto i 13,5 dopo aver sparato, allora valuterei anche degli short, altrimenti io al momento lo short non lo prenderei in considerazione neanche su segnali daily. Benissimo, tra l'altro Arduino su questo Alex ci fa subito un commento che dice condivido, può essere un rialzo sintetico della politica espansiva, quale sarebbe il mover per un long intendo sempre per il DAX, grazie mille. Allora andiamo a vedere un pochino anche questo aspetto Arduino. Bah, mover per il long vedendo un pochino quello che sta facendo anche, quello che dicono un pochino i dati macroeconomici e quello che viene dall'America, direi che qui i mover possono essere tanti come possono essere pochi o importanti o meno, in linea di massimo il mercato fa quello che vuole, l'abbiamo visto in svariate occasioni, quindi io sinceramente non parlerei di mover, ma parlerei di andare a capire che cosa avviene magari sui mercati americani, magari anche sui mercati obbligazionari, sull'oro, cercando di guardare le correlazioni sui vari mercati, ma guardare quello che fa il DAX e quindi cercare di studiare i livelli maggiori e lavorare su di essi. Andare a prendere dei market mover, sinceramente ti dico faccio trading ormai, quest'anno veramente è ormai tanti anni che lo faccio e non è il dato ma è come reagisce il mercato a un dato e spesso reagisce come voleva, nel senso al di là del dato. Quindi io sinceramente direi al nostro Alex qui di YouTube che vedo che ha appena scritto di concentrarsi di più su quello che vede dal mercato, magari studiando i prezzi, i livelli e i correlati, quindi le correlazioni sul mercato, più che magari farsi delle congetture su quello che potrebbe essere un mover di mercato e magari lavorare su di esso. Ti faccio l'esempio, la Brexit, facciamo un esempio grandissimo degli ultimi anni, gli ultimi tre anni, la Brexit, io ho fatto un'analisi di quello che è stato il mio trading, soprattutto nell'ultimo anno e ho visto che dove ho guadagnato di più è stato sulla sterlina, ma non ho lavorato sulla sterlina perché pensavo che la Brexit avrebbe portato la sterlina giù, la sterlina su, perché ho visto, ho fatto sia trading short che trading long, che cosa ho fatto io? Ho sfruttato magari la volatilità di un possibile market mover, ma guardando quello che facevano i prezzi e lavorando sia short che long, quindi lavoriamo più guardando quello che ci dice mercato, più che la nostra idea di un mover che può essere, per esempio qua si parla di politica espansiva, anche sull'euro dollaro si potrebbero fare tantissime congetture, meglio guardare i prezzi e questo per me è proprio la fonte informativa migliore. E allora proprio su questo, Arduino, voglio mettere in contrapposizione due strumenti finanziari, in questo caso un cambio, USDJPI e un cross Euro-Yen, perché vado a trattare questi due e poi voglio sapere appunto la tua, perché per quanto riguarda appunto USDJPY abbiamo visto questa mattina proprio il breaker, tra l'altro degli ultimi massimi che avevano battuto le quotazioni qualche settimana fa, mentre un pochino più indietro Euro-Yen. Allora, su questo aspetto, vista la debolezza di Yen, eventualmente possiamo cercare magari lo short su Euro-Yen? È un'opinione, è una domanda che ti faccio per la contrapposizione che ho fatto con questi due strumenti, ma voglio sentire la tua, perché tra l'altro su dollaro-Yen siamo vicinissimi ai 110 che in molti ritengono un fair value per quanto riguarda il valutario, ma voglio sentire la tua, Arduino, prego. Qui ci sarebbe da aprire un bel capitolo, comunque dollaro-Yen prima di tutto è sicuramente oggi una coppia che è forte, c'è stata questa base fatta proprio a metà agosto, il mercato ha con difficoltà comunque superato alcuni livelli e oggi ci troviamo a guardare un po' con un weekly, con un mega segnale long, FTV, doppio minimo, inside fake out, è un triplo segnale questo, che però sicuramente va a sbattere con questi 110 molto importanti. Io sinceramente, vista la price action che si è venuta a creare proprio sul grafico settimanale, direi che per dollaro-Yen quello che mi attendo è una continuazione di forza finalmente di dollaro-Yen, cioè di dollaro comprato, Yen venduto, tra l'altro a favore di tasso di interesse e quindi può essere un bel rally che può avvenire, prossimo livello area 112, quindi anche abbastanza lontana dai prezzi attuali. È ovvio che bisogna stare attenti a 110, infatti la mia idea di trading qui è quella di attendere cosa capiterà a 110, che potrebbe essere un'area, io l'ho segnata infatti, un'area dove il mercato dollaro-Yen può avere un ritracciamento dei prezzi o anche un consolidamento, non serve proprio che ritracci, però su questi livelli potrebbe essere interessante cercare un long vista la price action sul weekly, quindi io su dollaro-Yen sinceramente seppur 110 è un livello chiave per come ha strutturato, per come è la struttura e l'ambiente del mercato di dollaro-Yen oggi, io sinceramente attenderei magari ribassima per andarci long, quindi non mi metterei short seppur il livello è un livello di offerta dollar-Yen. Se vogliamo andare a prendere Euro-Yen qui dobbiamo fare degli altri ragionamenti perché qui ovviamente, tu mi dici, si potrebbe shortare perché qui ovviamente abbiamo meno forza, l'euro-dollar è ancora in alto. Scusami se ti interrompo perché vedo nella condivisione ancora una volta il DAX, non so se è un, ho visto anche Giuseppe dalla regia che mi diceva vediamo sempre il DAX per quanto riguarda il tuo grafico, vediamo se si aggiorna un attimo la piattaforma perché era rimasto lì, il grafico così abbiamo allineamento fra la tua voce e la grafica, vediamo se riesci ad aggiornare al volo il tutto così proseguiamo con Euro-Yen. Sì, io in questo momento sono su dollaro-Yen con il grafico, però questa volta non saprei… non so se magari hai attivato la condivisione dello schermo, quello è rimasto diciamo sul DAX, non so se ti sei aggiornato lo schermo sul DAX, vediamo di risolverlo al volo altrimenti prendo io la condivisione, se riusciamo appunto in pochissimo, altrimenti fa niente nel senso che ti seguo io con la mia, vediamo se ti si aggiorna al volo così anche con Giuseppe dalla regia ci coordiniamo, no, vediamo io perché ti vedo bloccato sul DAX, allora facciamo così, senza problemi, Arduino mostro io quello che è il mio schermo così non abbiamo rallentamenti ulteriori, allora torno da me al volo, piattaforma, eccola qua, allora Arduino, eccolo qua, ricevi di Euro-Yen, eccolo qua in questo caso, scusate, non in secondo piano, in primo piano, 122.16, a te la parola per l'applicazione, prego. Ma guarda, ci sta quello che tu hai detto, nel senso che andare magari a ricercare, piuttosto di andare Dollar-Yen Short, preferirei andare Euro-Yen Short, ecco sì, sicuramente è preferibile però da qui a mettersi Short io anche qui farei un po' fatica, cioè preferisco lo Short Euro-Dollaro se ti devo dire la verità, ma Euro-Yen ancora al momento è un mercato che forse potrebbe dare un po' di più, abbiamo una zona molto importante tra 112.80 e 100, no 112 scusa, 122.80 e 123.80, quindi diciamo che quella zona lì potrebbe essere più interessante per delle vendite, vedo che potrebbe ancora andarne, ecco, quindi probabilmente il mover di Euro-Yen è Dollar-Yen oggi, più che Euro-Dollaro, Euro-Dollaro è stanco, quindi diciamo che a meno che Dollar-Yen non si fermi completamente sul 110 e Euro-Dollaro non crolli, allora a quel punto potremmo avere in effetti un Euro-Yen che va a scendere. Per come è impostato il weekly di Dollar-Yen, non lo so, farei fatica a mettermi corto di Euro-Yen, comunque seppur la mia view con Euro-Dollaro è abbastanza short, magari non da questi livelli ma un po' più alto, quindi vedi com'è Dollar-Yen, lo stai mostrando, quindi Dollar-Yen è bello tonico, è bello impostato, ha fatto una falsa rottura di 108,5, è andato a toccare i 108, anche lì li ha spaccati, è ripreso, qui sembra voler andare verso i 112,20 e magari anche ritracciando ben poco, quindi Euro-Yen comunque sappiamo, è un cross, il cross si risente delle due coppie Euro-Dollaro e Dollar-Yen, meglio sinceramente, lo dico un po' per gli ascoltatori, focalizzarsi sulle due coppie Dollar e magari quando sia ben chiara la price action, l'informazione grafica di quello, magari si può andare su Euro-Yen, però Euro-Yen lo vedi, anche lui sta compressando, fare uno sfogo un po' più in alto, 123,50, 123,20 lo potrebbe dare ancora. Benissimo, benissimo, prima di andare alla domanda di Giovanni, se non leggo male, perché diceva, volevo chiedere in merito a Euro-CHF, poi anche Atila dice, Euro-CHF è possibile un traguardo a 1,03 e 72, altrimenti 1,08 e 16, allora facciamo così Arduino, andiamo a rispondere a precedenza sempre ai nostri utenti che ci seguono e quindi vado a caricare appunto Euro-CHF, perché poi appunto visto quello che hai detto su Euro-Dollaro ti voglio sentire su quello strumento finanziario. Allora, andiamo sulla Euro-CHF, ha presentato il grafico weekly, mi guidi tu, io ti seguo per quanto riguarda la grafica. Allora, rimarrei ancora ancorato a quello che ha fatto la settimana scorsa, quindi lui ha chiuso sotto l'area 1,08 e 50 settimana scorsa, quindi questa chiusura è una chiusura che in linea di massima ci mostra difficoltà nel mantenersi nel trading range, chiamiamolo così, nella lateralità dell'ultimo periodo. Abbiamo un dollaro franco che ha tenuto un bel livello, abbiamo l'Euro-Dollaro però molto debole, quindi il fatto che possa chiudersi il gap o comunque che ci possa ritornare in area 1,07, 1,06 e 50 sull'Euro-Franco è un qualcosa di probabile e possibile. Diciamo che non ho adesso veri e propri segnali di trading sul grafico daily, ma ho una struttura che solo se ci dovesse essere con la chiusura di questa settimana, oggi è appena lunedì, però se alla chiusura di questa settimana dovessimo ritornare al di sopra di 1,08 e 60, 1,08 e 70, a quel punto avremmo una struttura ancora in trading range e anzi quella di settimana scorsa diventerebbe una falso minimo e quindi il recupero potrebbe riportare magari i prezzi nuovamente in area 1,10, 1,10 e 50. Contrariamente una tenuta anche a livello inside, come sta facendo adesso sul weekly, dell'area 1,08 e 50 che abbiamo visto prima, a mio avviso potrebbe essere un bel segnale, chiamiamolo così, per cercare degli short in ottica giornaliera, magari su time frame, io sai, prediligo quelli un po' più alti, però insomma cercare delle entrate short perché poi ce n'è di spazio qui, ce n'è abbastanza visibile anche sul grafico weekly, fai conto che poi si può andare veramente a 1,06 e 50, è abbastanza facilmente 1,07, quindi ce n'è, sono 100-150 pips di movimento, tra l'altro c'è un gap da chiudere, ancora il gap forse quella gappata sulle elezioni di Macron se non ricordo male, che rivede anche l'euro dollaro con un gap eccetera eccetera, quindi magari si va a chiudere anche questo buco grafico abbastanza chiaro e rivedere appunto ripeto 1,07, 1,06 e 50 è possibile, quindi io direi a chi ci ascolta, a chi ci ha scritto la pazienza è una grande arma nel trading, vedi un pochino se tiene area 1,08 e 50 diventa l'area un po' di confine tra compratori e venditori, se tiene io credo che seguire il trend in questo caso sia la cosa migliore. Benissimo, benissimo, così abbiamo risposto anche alle domande dei nostri spettatori, voglio sentirti, allora vado a presentare il grafico giornaliero perché qua mi ero segnato qualche appunto Arduino anche su euro dollaro, perché nonostante appunto la bassa volatilità che ha accompagnato tutto il 2019 sul cambio principale, nelle ultime settimane o meglio negli ultimi mesi da quel bottom di fine settembre 2019, io vedo un'impostazione comunque sia di minimi crescenti, tu però mi hai detto è un euro dollaro stanco, voglio capire meglio la tua motivazione, quindi ti cedo la parola e andiamo a sentirti. Allora, se mi puoi prendere il grafico settimanale così vi faccio capire il motivo per cui dico questo, eccolo là, vedi che se noi prendiamo l'ultimo anno, ma non solo, abbiamo una tendenza, guarda qua, grafico da sinistra a destra, molto semplicemente è un grafico che ha un trend ribassista, seppur bruttino, a volte è molto laterale nei suoi movimenti di ossigenazione, però, e noi dobbiamo imparare dalla storia del grafico che abbiamo di fronte, perché ogni mercato ha un pochino il suo, ha la sua volatilità, ha le sue dinamiche, le sue caratteristiche e quello che è avvenuto negli ultimi mesi da ottobre ad oggi, settembre, ottobre ad oggi è proprio il classico movimento che sta facendo negli ultimi mesi, proprio negli ultimi anni l'euro dollaro quando ritraccia e prende dei livelli importanti, prendiamo per esempio i massimi fatti a settembre 2018, i massimi fatti a gennaio 2019, i massimi fatti a giugno 2019, abbiamo sempre questa lateralità, questo frastagliamento un po' tra compratori e venditori e poi pam, un rialzo, una falsa rottura di tutti i massimi precedenti, un segnale di price action e poi il mercato scende. Cosa è avvenuto negli ultimi due mesi? C'è stato un rialzo, giustamente come tu hai fatto notare, infatti ti dico io nell'ottobre e novembre, a metà ottobre, ho fatto un trade long sull'euro dollaro, su un mio segnale, anche dato a buon fine, che ho mostrato anche su un video YouTube proprio che ho fatto ultimamente e quindi non è che non vado long sul mercato che comunque mi dà dello short, ma solo se il presupposto e la struttura di price action anche sul settimanale è in linea. In questo caso la struttura settimanale a mio avviso è una struttura short euro, perché ha fatto appunto questa dinamica che fa da tempo e fa le ossigenazioni migliori, quindi ossigenazioni anche importanti del prezzo con minimi crescenti, massimi crescenti, ma è andato proprio la settimana del 30 dicembre, è andato a ritestare, è andato verso 1.12.40, 1.12.50, ha ritestato tutti i massimi precedenti, addirittura alcuni li ha proprio completamente bruciati e ha fatto sul settimanale un inside fake out, cioè uno dei miei segnali ha sparato a rialzo dopo due barre inside sul settimanale e ha chiuso al di sotto del range della mother bar, eccola là. La settimana appunto quella lì, quella della pin bar chiamiamola così, è una pin bar inside fake out che settimana scorsa tra l'altro ha violato i minimi facendo un bel massimo perché è ritornato in area 1.12 e poi ha sparato giù, quindi conferma che il mercato al momento è short. Inoltre su queste ossigenazioni forti ricordiamo che abbiamo un tasso con delta positivo qui, perché chi shorta Euro-Dollaro compra dollari che oggi ancora scontano un interesse, diciamo è più una valuta chiamiamola così ad alto rendimento rispetto all'Euro e quindi paga interessi attivi. Quindi io qui sono totalmente, completamente dell'idea short, a meno che non ritorniamo al di sopra di 1.12 e 50 su grafico weekly, allora lì si può andare ancora a 1.14, ma al momento attuale questo non sta avvenendo e quindi per me questa settimana è andare a vedere se il prezzo mi ritornasse in area 1.11 e 50, è l'area più bella dove cercare un bel segnale short su daily o 4 ore, questo è quello che faccio io, e da lì shortare a mani basse, ovviamente il segnale deve essere chiaro, non deve essere però quello che sta facendo adesso è impossibile. Non si tradano le idee o le congetture, si cercano di tradare i segnali del prezzo. Appunto, e quindi adesso la mia è un'idea, se dovesse ritornare su quelle aree lì e farmi un segnale dei miei, un segnale chiaro dei miei che ha tutte le caratteristiche, non ci perderei assolutamente del tempo a vendere e avere anche un obiettivo importante perché magari almeno 1.10 lo potrebbe rifare e quindi il rapporto di risk reward, pensando che la volatilità media di una barra dell'euro-dollaro oggi è tra i 60 e i 70 pips anche un po' meno, se io prendo quella barra daily mettendoci anche magari un po' di, come dire, di tolleranza in più, mettiamo anche 100 pips di stop e la prendo a 1.11 e 30, 1.11 e 40, ovvio che andare a 1.10 può diventare insomma un bel trade, questa è un po' l'idea. Quindi questo, per me l'euro-dollaro è così, spero di essermi spiegato, per questo motivo, tra l'altro in generale, tranne che per gli asiatici, Oceania, quindi Australia, New Zelanda, dove vedo un po' più di difficoltà, io proprio io stesso ho più difficoltà oggi a capire cosa sta succedendo, sembrano ritornati un po' di più i compratori, ma per le altre, quindi dollaro-canada, dollaro-franco, dollaro-yen, euro-dollaro e sterlina-dollaro sono più pro-dollaro, tant'è che io sterlina-dollaro sono short già da un po', sono short da oggi, sono già 1 a 2 oggi nella posizione, quindi sono comunque pro-dollaro al momento in generale. E allora se sei pro-dollaro, come si comporterà il gold? Perché qua magari in tanti cercano la correlazione con i mercati, che non avviene perché poi alla fine su Wall Street nuovi massimi storici, ma abbiamo visto la corsa a cavallo e soprattutto in apertura di 2020 per quanto riguarda il gold, vado a prendere appunto il grafico fino a 1.600, poi grossa discesa, tanta volatilità la scorsa settimana Arduino, sia sul gold che sul VTI, beh ma allora se sei pro-USD, sei short o quantomeno vedi una possibile vendita di gold? Andiamo a sentire più anche su questo. Sì sì sì, sia su petrolio che su oro, per quello ti dico, è confermato abbastanza anche nella correlazione questa cosa che ho, visto il rally dell'ultimo periodo dell'oro che non si è mai fermato e come fai vedere tu il grafico daily è qualcosa che chiaramente ci indica una, non dico per forza inversione, ma almeno un esaurimento della forza dell'ultimo periodo, qui è ovviamente lampante, cioè mettersi long almeno in ottica di qualche giorno su questo mercato, seppur c'è una tendenza long, secondo me oggi si corre un grosso rischio, perché c'è più la possibilità dopo l'esplosione a 1.613, 1.614 che l'oro, non voglio dire debba invertire e ritornare a 1.400, che però potrebbe essere, prima di una nuova risalita, e questo è quello che io mi aspetterei, però almeno una laterale ribassista come struttura nelle prossime settimane addirittura, perché la barra che, o comunque la struttura tecnica che è venuta a crearsi proprio, struttura tecnica quindi non prendo neanche, non prendo solo l'ultima barra, cioè questa giornata molto molto di enfasi ribassista che poi è stata ributtata giù, quella settimana così enorme, è arrivata dopo quello che stai facendo vedere, una tendenza fortissima dei movimenti di rally senza ritracciamenti, cioè questo vuol dire, quando si guarda e si lavora con il mio approccio, quindi solo con l'analisi dei prezzi, non si guarda una candela seppur c'è anche un po' questo sputtanamento sull'internet, diciamo che si deve capire la struttura di cosa ha portato cosa, perché questo tipo di barra in un'altra situazione magari non indica niente, ma in questa situazione a mio avviso indica perlomeno, non voglio dire un'inversione, ma perlomeno un esaurimento di una forza almeno momentanea, quindi long sicuramente no, tant'è che adesso stavo guardando anche il mio grafico, ho un 1.560 io dollari l'oncia che è un livello importante, se dovessimo rimanere al di sotto di questo e darci dei segnali short io sinceramente li prenderei con obiettivi piccoli, magari di 1 a 1 sulla posizione, non faccio come sto facendo sulla sterlina dove invece ho obiettivi un po' più ampi e magari 1.515 rispondere a prendere i 1.5 ancora, ti dico la verità, con un input del genere prima di un nuovo rialzo che credo ci possa essere nell'anno 2020 ancora oltre a questi massimi, quindi io sono in questo caso la mia view che sto dicendo è di breve periodo, ma non nego che ci potrebbe anche essere un ritorno a 1.420, 1.4 dell'oro prima di nuovi massimi dell'oro, ci sta nella struttura tecnica. Tra l'altro su questo Arduino volevo andare a vedere anche quello che aveva fatto un pochino il mensile, giusto per ampliare ancora di più, poi passiamo all'ultima domanda che è arrivata per quanto riguarda il Bitcoin, ti facevo un'obiezione perché magari sul mensile vedo gli ultimi 4 mesi del 2019 che avevano fatto comunque sia pavimento o comunque sia non erano riusciti ad andare sotto area 1.450, tu hai parlato di 1.400 obiezioni che ti faccio per questi 50 dollari, nel senso che magari è un pochino più forte questo 1.450, non so tu come la vedi, ovviamente hai detto già la tua però ti faccio l'obiezione, scusa. No, no, corretto, assolutamente, anzi così spieghiamo, tu hai giustamente fatto vedere un grafico mensile, ma prendere un 1.400 magari in ottica settimanale, magari con una focata di 3-4 giorni e il rientro sopra i 1.450 è una cosa fattibile e tu sul mensile poi magari mi vedi una pinbar long sul mensile. Ok, perfetto, un po' come ha fatto al contrario sui 1.600, che praticamente ha fatto 1.600, 50 dollari messi dall'altra parte, in questo caso invece dell'appershadow, sull'overshadow. No, no, assolutamente, facciamo sempre formazione, cerchiamo sempre di spiegare perché siamo sempre, no, cerchiamo di andare sempre oltre a quelli che sono un pochino i classici diktat che possono essere sia di price action che di analisi classica fatta. Vuoi aggiungere qualcos'altro Arduino sul gold oppure andiamo al bitcoin? No, direi che ragionando un pochino, ecco io qua long, seppur c'è un bellissimo trend, sui livelli attuali mi sembra, ecco la mia idea è quella di non mettersi short in questo momento, insomma, scusa long. Ok, ok, allora andiamo al bitcoin, faccio al volo un salto su un'altra, appunto, eccolo qua, sul grafico, lo vado a prendere al volo e Arduino qua noi su, tra l'altro nostro portale, abbiamo preso un pochino in considerazione quello che poteva essere una nuova ottica, una nuova view per il 2020, poi ovviamente possiamo essere sicuramente smentiti, ma abbiamo riportato alcune notizie in cui il bitcoin o comunque sia le criptovalute potrebbero essere prese come ulteriori beni e rifugio e proprio nell'aumento di volatilità, nell'aumento di tensioni su quelle che sono state le notizie tra USA e Iran, effettivamente abbiamo visto un buon ritorno dei compratori sul bitcoin. Tu come la vedi in questo caso per quanto riguarda la price action che tu segui ardentemente e con tanta disciplina. Prego. Allora, guarda, in questo momento appena iniziato l'anno c'è questa tenuta dell'area dei 7000. Ti dico la verità, non sono un grande tradatore trader di bitcoin, qualche cosa ho fatto, però non è uno dei miei mercati ecco preferiti. Detto questo comunque direi che al momento sembra in effetti avere una certa forza, i 7000 diventano adesso il baluardo, il supporto importante almeno da un punto di vista proprio tecnico per questo periodo, quindi fin tanto che lui ha fatto questo movimento molto bello che si nota sul daily, ma anche sul weekly e siamo però vicini a un'area importante, l'area 8500, dove lui è andato quasi a sbattere, è molto molto importante. Quindi seguirei l'andamento comunque del prezzo sul daily, seppur seguiamo anche il weekly perché il settimanale ci mostra una, come dire, a me non piace tantissimo segnare le trend line queste cose, però se tu vai a prendere proprio i massimi fatti nel 2019 a giugno, vedi proprio che c'è questa classica, eccola lì, magari non perfetta, ma eccolo lì, una certa corrispondenza di massimi decrescenti, ripeto non segno quasi mai le trend line perché è una cosa un pochino così un po' troppo artistica, però in effetti in questo mercato sembra avere una certa logica, ci sono dei massimi che arrivano fino a un certo punto e poi non riescono più a equidiscende ancora. Quindi al momento siamo ancora all'interno, come hai fatto vedere tu, di questa compressione un pochino che potrebbe portare a una rottura molto forte perché sappiamo che quando il mercato comprime certi livelli di prezzo, certe situazioni, la forza... una molla che si carica, una molla che si carica. Assolutamente, quindi in questo caso vedendo anche un pochino che cosa ha fatto diciamo da novembre, dicembre, quindi queste bravissimo, questo settimanale, è un settimanale o mensile questo? Settimanale. Settimanale, ecco questo settimanale che è proprio ben schiacciato con questi minimi più bassi sempre risucchiati mi fa pensare che quello che tu hai detto prima, cioè di questo bene rifugio potrebbe in effetti essere. Diciamo che in ottica operativa una chiusura nuovamente al di sopra, e qua siamo un po' più alti, però i 10.000 che è anche un livello tecnico statico di offerta Bitcoin, i 10.000 sono quell'area che prendeva proprio quei massimi diciamo della settimana del 28 ottobre, tutta quella zona lì. L'area 10.000 secondo me è un bel... eccola là, quell'area lì, è anche un'area tonda, è un livello psicologico, superato quello a mio avviso potremmo rivedere nuovamente almeno i massimi precedenti, non voglio dire che deva romperli perché poi qua si tratta di previsione così da sfera di cristallo, però una chiusura di sopra 10.000 porterebbe fiducia anche a chi tendenzialmente lavora col Bitcoin, anche a chi non ci lavora col Bitcoin e quindi a comprare 10.000 e magari richiudersi a 12-13.000 potrebbe essere un'idea. Quindi adesso stiamo un po' lì, lavoriamo più sul daily con operazioni magari sia long che short, anche se adesso prediligiamo long perché la tendenza è questa, attenzioniamo l'area 8.500 che è l'area che tu hai segnato molto importante, al di sopra di essa c'è il livello 10.000 e dopo da lì a mio avviso il trend potrebbe diventare più forte e potrebbe quindi ritornare anche sui massimi precedenti. Chiudo, mentre una chiusura sotto i livelli dove lui si è seduto nell'ultimo periodo, cioè il livello 7.000 porterebbe al livello successivo che sono i 5.900 e dopo da lì iniziamo anche a parlare di difficoltà del mining e tutte queste situazioni che vanno appunto nel Bitcoin, quindi dopo da lì magari ci ritornano i compratori. Settore crypto visto dal lato B, mettiamola così senza ovviamente fare doppi licenzi o quant'altro. Arduino abbiamo approfondito tanti argomenti, siamo ripartiti in questo 2020, vado a mostrare quello che è il tuo sito di riferimento per quanto riguarda appunto tutte le informazioni che qualora gli utenti appunto volessero contattarti lo possono fare www.earforex.com ma lascio a te ricordare il tutto. Ma niente, stiamo molto contenti, abbiamo chiuso un bell'anno, nel nostro servizio Platinum abbiamo avuto più utenti e contenti quindi abbiamo chiuso anche l'anno bene a livello operativo ma siamo contenti perché molta gente che ci sta seguendo insomma sta iniziando a darci dei feedback molto importanti e a volte che non l'avevamo neanche mai avuto quindi vuol dire che siamo cresciuti anche noi e questo come vedete ci sono ancora alcuni abbiamo messo il pacchetto Platinum scontato per chi vorrebbe provarlo eccetera eccetera quindi se ci volete seguire insomma ci potete seguire da lì nel canale YouTube come al solito Benissimo, allora andiamo a ringraziare Arduino Schenato, l'MVP della Price Action so che appunto è un appassionato di basket e quindi è doveroso chiamarlo così grazie mille ad Arduino, buon lavoro e ci ritroviamo presto qua su visionforex.info Grazie a te Francesco, un saluto a tutti, ciao E vado infine a ricordare che tramite invece il nostro sito web www.visionforex.info se volete seguire un webinar gratuito si terrà domani mattina a partire dalle ore 10 trading live con Tony Ciovi Puviani è gratuito quindi basta cliccare sul tasto iscriviti per poter appunto iscrivervi, nome, cognome e vostri contatti ricevere quello che sarà appunto il link per seguire questo appuntamento totalmente dedicato alla didattica ancora una volta gratuito in appunto nostra collaborazione per quanto riguarda l'appuntamento odierno è tutto ci ritroviamo domani mattina per chi vuole appunto seguire il webinar trading live con Tony Ciovi Puviani altrimenti il prossimo appuntamento qua su visionforex.info è per mercoledì mattina a partire dalle ore 9 del mattino ringraziamento a tutti gli ospiti, a tutti gli utenti che ci hanno seguito buona giornata e buon trading ringraziamento 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 in app Bandidi alledanceuro 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 alledanceuro